Il progetto case di Sant'Antonio ormai è sotto assedio dei ladri da circa un mese. Ogni notte è tormentata per i residenti del progetto case. Vivono, come si diceva, da un mese nella paura dei ladri, subiscono furti, anzi, molte volte per fortuna, solo tentati. Questi sono quasi all'ordine del giorno. Ma il fatto che i colpi non vengano spesso portati a termine non cambia il senso di impotenza dei residenti che chiedono a questo punto alle forze dell'ordine con insistenza controlli più frequenti e mirati, soprattutto di notte. Qualche notte fa ancora una volta gli abitanti del progetto case alle porte della città sono stati disturbati da un ladro che con le stesse modalità di sempre ha tentato di introdursi intorno alle 23 in un appartamento di una palazzina dalla porta finestra in vetro con le stesse modalità, si diceva, perché fanno sempre così. Tentano di forzare le porte e finestre di accesso agli appartamenti in vetro staccando molte volte anche l'interruttore dell'energia elettrica. I rumori però hanno richiamato l'attenzione degli occupanti dell'alloggio che ormai da un mese non dormono più. Sono scappati fuori insieme ad altri condomini nel tentativo di riuscire a scovare il malvivente. A quel punto, secondo i loro racconti, hanno visto correre via dalle case una persona che probabilmente aveva un complice ad aspettarlo che si è dileguata velocemente verso la rimessa dell'ARPA poco distante dal supermercato Tigre. Si tratta soltanto dell'ennesimo episodio consumato ai danni della zona che sembra essere presa di mira senza pietà. Da più di un mese il progetto case è sotto assedio e vengono spesso danneggiate anche le vetture che sono parcheggiate dove sono gli isolatori sismici nella zona garage. Gomme tagliate, tanti atti vandalici che i residenti non ce la fanno più a sopportare.